Il destino si è divertito con me, sognavo una vita da principessa, ma quella era l'utopia. Non pensavo di finire in un paese straniero, fra gente che parla un'altra lingua, attratta dalla falsa prospettiva di una vita migliore. È difficile farsi spazio in una società così diversa da quella di Valona. L'ho capito subito, sin da quando, in gerta ed imborita, mi sono trovata su di un peschereccio ad inseguire un sogno che non si sarebbe mai realizzato. Dopo tante ore di viaggio, trascorse fra l'angoscia e i sogni, eccomi al porto. Intendo scovare l'uomo che, per intercessione della mia amica Anna, mi avrebbe aiutato a cercare una sistemazione ed un lavoro. Ero risposta a tutto pur di proteggere mia figlia Alina, che a soli 15 anni era stata costretta a lasciare il suo paese ed i suoi affetti. Ma non immaginavo che il mio viaggio della speranza si sarebbe ben presto mutato in una vita piena di frustrazioni e di profonda disperazione. La speranza si sarebbe ben presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.